St. Peter's Basilica La Basilica di Papal Basilica di St. Peter è comune come St. Peter Basilica e è una città di prima renaissance locata nella città di Vaticano. In tradizione romana, la Basilica è il sito di burione di suo nome, St. Peter, che era uno dei due apostoli di Gesù. La Basilica è in un forcorto in due seczioni, both surrounded by tall columns. La Basilica è cruciforme in forma, con un elongato nave nella formazione latina. La Basilica contiene un grande numero di tombe di pop, considerate abstando artefatti. Ci sono anche scultura in nici e chapetti, including Michelangelo's Pietà. La feature centrale è un baldacchino over the papal altar, designato da Lorenzo Bernini. La Basilica di St. Peter è una delle quattro basiliche di papal, le basiliche di Roma. Le altre basiliche sono la Basilica di St. John Lateran, Santa Maria Maggiore e St. Paul, fuori le palle. The dome è una feature of the skyline.